Ciao a tutti ragazzi, qui sempre Lele e Miki, come potete vedere al mio fianco non c'è Miki Ragazzi siamo tornati finalmente in questo nuovo video dove vi mostrerò appunto la nuova sigla del canale E ragazzi volevo dirvi veramente grazie per il traguardo che abbiamo raggiunto E mi scuso, ci scusiamo veramente per non aver messo a video sui ragazzi che io quest'anno gli esami sono impegnati con la scuola Lo stesso vuole per Miki, quindi ragazzi siamo entrambi impegnati ed è difficile trovare un giorno dove entrambi siamo disponibili A parte il sabato, domenica e forse il venerdì qualche volta Ci sono anche comunque riempie, l'attività è un po' meridiana, quindi ragazzi non è veramente facile trovarci Sono scustevo di gel per questa nuova sigla Scriveteci qui sotto nei commenti che altri video vorreste vedere, vorreste vedere le mieべzie di questi giorni Perché in questi giorni amputto beffa ricordati in questo esame gingita e ragazzi probabilmente vi daremo delle date precise per i giorni poi posteremo i video non saranno un al giorno ma saranno probabilmente il sabato e l'america li faremo sicuramente i video sia per il sabato l'ameriggio alle 14 e alle 17 anche un altro video mentre la domenica lo stesso alle 14 e alle 17 un altro video mentre per i giorni settimana li credo solo il martedì o il venerdì scriveteci per sotto i commenti cosa pensate di questi giorni se sono comodi perché per noi sono i giorni più facili in cui noi ci potremmo incontrare e quindi ragazzi sotto a spolleggiare tutti i nostri video iscrivetevi al canale alla pagina facebook che vi lasciamo qui sotto in descrizione alla pagina instagram e seguiteci anche su telegram perché ho aperto io ho aperto un nuovo profilo telegram quindi qui sotto in descrizione trovate tutte queste cose e lo stesso qui sotto nel link in descrizione potete trovare anche il sito delle nostre magliette con il nostro numero telefonico con anzi metterò la nostra email in modo da dare che ragazzi poi ci sono veramente un sacco di persone che mettono che chiamano e dicono sempre questi video quindi metto l'email in descrizione e scriveteci appunto nell'email per chi è interessato ragazzi possiamo iniziare con la sigla hit me with the horse